Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi ho realizzato insieme a voi questo trucco occhi magari adatto per l'estate, per la sera, è molto bello, facile, guardate il video e fatemi sapere cosa ne pensate Per questo trucco utilizzo la bronze metal di Morphe che è molto molto bella, ha tutti questi ombretti qua e quindi incominciamo subito Incomincio applicando questo shimmer più scuro con un pennello piatto su tutta la palpebra mobile in questo modo qua e lo vado a stendere senza essere troppo precisa Dopodiché con la parte della sfumatura vado a sfumare questa parte qua che confina con la palpebra fissa così che la sfumo e non c'è lo stacconetto del prodotto Poi prendo questo ombretto qua, oro, sempre shimmer e lo applico nella prima parte dell'occhio, più o meno fino a metà sempre con la parte da sfumatura e lo sfumo per bene in questo modo qua Ora faccio un mix tra i due marroni invece opachi e li vado a posizionare nell'ultima parte dell'occhio quindi sfumo per bene così che non ci sono stacchi di colore e porto un po' verso l'esterno e nell'angolo qua sempre esterno cerco di sfumare il tutto molto bene Con la parte piatta prendo il marrone più scuro proprio con la punta del pennello e intensifico l'angolo esterno in questo modo qua vado praticamente a pressare l'ombretto in questa parte qua così lo sguardo risulterà un po' più profondo in questa parte qui e con quello che mi rimane vado a sporcare anche la rima inferiore in questo modo qua in maniera molto molto leggera dopodiché con il mio solito pennellino vado a creare il punto luce prendo questo ombretto qua e lo vado a picchiettare nell'angolo interno e lo porto leggermente dove ho applicato l'oro prima e lo metto anche un pochino nella rima inferiore proprio in questo angolo così che lo sguardo sembrerà più aperto, più luminoso e devo dire che questa palette è molto molto bella e per finire applico il Maxi Mod di Kiko sulle ciglia e le pettino per bene perché chiaramente il mascara è fondamentale e questo è il risultato finale del trucco è molto semplice come avete visto e mi piace tanto si realizza in due minuti fatemi sapere voi cosa ne pensate grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti